Gentili telespettatori, buona giornata. Crosetto, ministro della difesa, furioso con Giannini, il direttore del quotidiano, perché dice che l'intervista è inventata. Di che cosa sta parlando? C'è un'intervista uscita sulla stampa, la stampa diretta da Massimo Giannini, un'intervista che Guido Crosetto non ha mai rilasciato. Dice su Twitter, hanno usato pezzi di un intervento pubblico tagliando un ragionamento complesso sul PNRR per inventare un titolo che aprisse una polemica. Hanno riportato virgolettati falsi per provocare il presidente del Senato. L'articolo che apre la pagina 3 del quotidiano firmato da Federico Monga riporta infatti una frase pesantissima. Il giornalista nella finta intervista chiede infatti a Crosetto Il 25 aprile sarà a Cuneo e a Boves, luoghi simbolo della resistenza antifascista. Non si porta il presidente del Senato la russa al seguito e il ministro sorridendo risponde così Sarò con il presidente della Repubblica, io viaggio solo con la prima classe. E ancora il sistema Italia non è in grado di mettere a terra tutti i progetti del PNRR, bisogna prendere solo le risorse che siamo in grado di spendere. Parole pesanti quelle che avrebbe detto Guido Crosetto. L'Italia può fare tutto tranne che perdere i soldi. Faccio un esempio, prendiamo 100 milioni di euro per un'opera, entro la scadenza ne spendiamo solo 98, significa che dobbiamo restituire 98 milioni e ci teniamo l'opera non finita che dovremmo pagare con il nostro bilancio. Il problema non è solo burocratico di progettazione, la vera domanda è l'Italia ha le tre possibilità di scaricare a terra 200 miliardi in tre anni, ma sarebbe tutto falso. Il problema delle interviste false, insomma, beh, alle interviste false non eravamo ancora arrivati. Questo è una novità. Nel passato recente abbiamo visto scrivere titoli falsi da alcuni giornali, abbiamo visto mettere dei virgolettati falsi. Che cos'è il virgolettato? Quando si mette tra virgolette la frase di qualcuno vuol dire che ha detto esattamente quelle parole. Però non eravamo mai arrivati a un'intervista falsa che era la somma di pezzettini di dichiarazioni fatte nel tempo, messe insieme come se fosse una intervista fatta. Perché diventa praticamente un montaggio di parole senza senso, dove viene stravolto tutto. Quindi se così si tratta, perché io ho sentito solo questo, se così si tratta sarebbe un nuovo orizzonte del giornalismo italiano, quello delle non notizie false, ma quello delle interviste inventate. Perché spesso, ultimamente, abbiamo visto dei titoli completamente falsi. Cioè, completamente falsi. E tutto questo perché? Per vendere il giornale. Cosa vuol dire? Che i giornali oggi non si vendono solo in maniera cartacea, ma il giornale viene venduto soprattutto online. Cosa succede online? Online tu non compri il giornale, mentre nell'edicola lo compri. Nell'edicola non c'è bisogno del titolo falso, perché tu compri il giornale e poi guardi quello che c'è dentro. Però se il titolo è della prima pagina, serve quello per far vendere il giornale. Voi andate in edicola, vedete il giornale col titolone falso accattivante, lo comprate senza sapere che quel titolo falso è stato fatto solo per vendere il giornale. Poi dentro non c'è bisogno di mettere i titoli falsi, perché quando l'avete comprato, l'avete comprato. Mentre online funziona diversamente. Ci sono giornali che hanno l'abbonamento, come il Corriere della Sera, dove tu paghi l'abbonamento e puoi leggere gli articoli del giornale. Anche lì non c'è bisogno di titoli falsi, perché tu paghi l'abbonamento e poi è finito lì. Hai il tuo giornale letto online, non c'è bisogno di mettere i titoli falsi perché tu hai già pagato. Poi invece ci sono i giornali online che non devi pagare per leggerli. Ma tu apri quell'articolo solo se ti interessa. Quindi se tu metti un bel titolo falso o una storpiatura, una cosa che ti fa capire una cosa invece non è, tu apri l'articolo per vedere il notizione e poi ti accorgi dentro, a volte non ti accorgi, che il titolo non c'entra niente con quello che c'è scritto, che il titolo era falso, che il titolo era fatto solo per farti aprire l'articolo. E perché dovresti aprire l'articolo? Apri l'articolo perché, aprendo l'articolo, ti si aprono 7, 8, 10, 15 pubblicità. E le pubblicità pagano il giornale in base a quante volte viene aperto online quell'articolo. Lo aprono mille persone e io ti pago, non so, 100 euro di pubblicità. Lo aprono 10.000 e ti do 1.000 euro. Lo aprono 100.000 e ti do 10.000 euro. Ecco, dipende da quante volte viene aperto quell'articolo online il pagamento delle pubblicità a quella testata giornalistica. Ed è per questo che molti giornali utilizzano i titoli falsi. Non so se avete notato, spesso cosa succede? C'è un titolo. Voi aprite quel titolo che è falso e dentro c'è un articolo con un altro titolo, quello vero. In modo che l'articolo vero ha un suo titolo giusto. Mentre quello che trovate nella home page è solo un enlance, come si dice, una cosa che ti porta a un altro articolo con il titolo vero. Non l'avete mai notato, no? Un titolo falso. Voi schiacciate e si apre un articolo con un titolo che parla della stessa cosa ma diverso. Per non essere accusati di fare delle cose false, allora poi l'articolo ha il suo titolo vero. Ma quando voi avete aperto, avete schiacciato su un'altra frase che è falsa. Viene fatto tutto per reindirizzarvi a un articolo, non interessante, ma il titolo falso lo faceva interessante, per aprire il giornale e far guadagnare le pubblicità a quella testata giornalistica che vi si chiamano clickbait. È clickbait, cioè ti fanno credere una cosa, tu apri ed è un'altra. È una sorta di truffa praticamente, truffa. Cioè ti fanno aprire una cosa, così ti si aprono delle pubblicità e tu indirettamente stai facendo pagare alla testata giornalistica un prezzo più alto all'inserzionista. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete. Arrivederci.